Musica Buongiorno a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale Io sono Ember the Gamer e oggi siamo su Valheim Valheim è un survival game a tema vichingo con alcuni riferimenti alla mitologia norrena Come prima cosa all'inizio del gioco sarà necessario ovviamente come la maggior parte dei survival Creare il nostro personaggio che può estraessere una femminuccia o un maschietto Potremmo scegliere colore della pelle, pettinatura, colore dei capelli e in realtà nient'altro Ovviamente dovremmo anche dare un nome al nostro personaggio In questo caso io ho scelto il nome di Lagherta Che per chi non lo sapesse è il nome di una delle protagoniste della serie Vikings Che vi suggerisco assolutissimamente di vedere quantomeno le prime stagioni Poi sinceramente anche io ho smesso di vederlo perché è iniziato un pochino ad annoiarmi Però le prime stagioni sono fighissime guardatele Dopo aver creato il nostro vichingo il gioco ci fornisce una breve introduzione Su quello che è successo e su quella che sarà la nostra missione Nella mitologia Norrena il cosmo è in realtà formato da nove mondi Che sono tutti tenuti insieme dall'albero del mondo chiamato Yggdrasil Di questi nove mondi fa parte anche Midgard che è la terra Ovvero il luogo dove alla fine è nato il nostro personaggio In questo gioco però gli sviluppatori hanno deciso di aggiungere il decimo mondo Chiamato appunto Valheim Valheim non è nient'altro che il mondo dove Odino ha imprigionato i cattivi più cattivi di tutto il cosmo Quindi tutti i suoi nemici li ha imprigionati su Valheim E poi ha spezzato i rami che tenevano il mondo ancorato all'albero della vita a Yggdrasil E li ha lasciati vagare in esilio per il cosmo Questi nemici però sono tornati più forti che mai Dunque il padre tutto Odino ha ordinato alle Valkyrie di andare su Midgard Quindi sulla terra Selezionare uno dei loro combattenti più forti In questo caso siamo noi Per portarlo su Valheim a sconfiggere tutti questi cattivi super cattivi E meritarsi così il Valhalla che altro non è che l'aldilà Norreno ovvero una sala piena di idromele e di cibo a non finire Dove i vichinghi più valorosi combattenti più valorosi Potevano passare l'eternità dopo la morte Nel gioco vediamo quindi la Valkyria che prende il nostro personaggio E lo porta fisicamente su Valheim Dove ci aspetta Yugin Yugin insieme a Moonin è uno dei corvi che aiutano Odino a tenere sotto controllo tutti i mondi Ovvero Odino li manda per i mondi a controllare cosa succede durante il giorno E verso sera loro tornano dal loro padrone per sussurrargli all'orecchio Quello che hanno visto e quello che è successo Nel gioco questi due corvi ci aiuteranno ad andare avanti nelle nostre disavventure Per sconfiggere i nemici di Odino e guadagnarci così appunto il Valhalla Quindi mi raccomando ogni volta che compare uno dei due corvi Avvicinatevi e vedete di parlare con lui Perché vi darà un sacco di suggerimenti molto utili su come procedere nelle nostre avventure Essendo un survival come prima cosa dovremo procurarci cibo che può essere ottenuto Ammazzando semplicemente le prime bestie che ci capitano a tiro Ma anche raccogliendo le bacche che troviamo in alcuni cespugli Dovremmo raccogliere legna, pietre, selce, un pochino di tutto Per iniziare a costruire tutte le armi e tutto quello che ci serve per sopravvivere E per riuscire a sconfiggere i nemici di Odino Ovviamente su Valheim non ci sono solo i nemici principali di Odino Ma ci sono tanti altri piccoli e adorabili mostriciattoli Che ogni tanto verranno a romperci le scatole Quindi mi raccomando cercate di prepararvi subito dell'attrezzatura Per poterli prendere a cazzotti e farli fuori E dopo questa breve introduzione via partiamo con il gioco La nostra lagherta è già su Valheim Ci siamo già preparati un po' di materiale Abbiamo già qualcosina che ci può aiutare a sopravvivere E volevo iniziare con voi partendo dritti al punto Ed eccoci qui finalmente su Valheim Ye 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 che bello che bello Allora ho fatto quest'intro un pochino così alla buona Perché purtroppo la prima bio del gioco non mi ha registrato l'audio Mi ha registrato solamente il video Che bello E quindi purtroppo ho dovuto un pochino improvvisare Mi aveva registrato il video Quindi ci ho registrato sopra Così la piccola storiella legata alla mitologia norrena Con tutta la spiegazione eccetera 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 Comunque non è che vi siate persi chissà che Abbiamo raccolto un botto di roba Ci siamo costruiti due cosine due Ma proprio due E uno di questi orribili mostri ci ha ucciso una volta Maledetto perché eravamo senza armi Ma adesso non ci freghi più Come vi dicevo non ci siamo costruiti chissà che Perché comunque prima di poter imparare a costruire le varie cose Bisogna saltellare qua e là Distruggere un po' di roba Poi pian piano si apprende Come potersi costruire le cose Questo è un altro di quei mostri terribili Ah no era questo che mi aveva ucciso mi sa Non mi ricordo Vabbè Comunque comunque siamo su Valheim Che bello Ci vogliono tutti male Ci vogliono per lo più tutti uccidere Noi dobbiamo andare a caccia di roba Dobbiamo raccogliere queste cosine Aspetta che qua bisogna usare il puntatore per raccogliere la roba Io sono sempre un po' in difficoltà Perché non sono più abituata a fare i giochi con il puntatore Aspetta aspetta Ok ecco qua ci facciamo C'è mostro c'è mostro c'è mostro Brutto mostro cattivo Brutto mostro cattivo Muorici muorici Ma no dove scappi Dove scappi vieni qua Ho fatto fuori Aspetta che mi da roba Aspetta che mi da roba Ok Bisogna raccogliere le pietre sempre con il puntatore Io questa cosa del puntatore non so ancora se l'apprezzo molto Oh no aspetta mi è caduta una pietra Mi è caduta una pietra La gherta me la raccogli? La gherta l'hai raccolta? È in acqua È difficile raccoglierla in acqua evidentemente sì Ok Questa cosa del puntatore dicevo Non so ancora se mi piace o no Probabilmente al momento no Perché sono troppo abituata su Ark Ma ci abitueremo anche a questo Mi è caduta un'altra pietra Raccoglila Ok Allora il cibo per fortuna al momento non è un problema Come vedete ce n'è in abbondanza Non abbiamo ancora costruito praticamente niente Però almeno questi lamponi ce li possiamo magnare E male ho visto che non ci fanno Vediamo se riusciamo a buttare giù quest'albero Peraltro state attenti quando buttate giù gli alberi su Valheim Perché a differenza di Arche non è che ti cadono addosso per finta Cioè questi ti cadono addosso per davvero Ti schiacciano Cioè ti fanno molto male Molto male Spostati spostati Lilla Spostati Da che parte cade? Da che parte cade? Cade addosso al mostro Cade addosso al mostro Perché non basta buttare giù l'albero No bisogna Distruggere il tronco in mille pezzi Per poterli raccogliere E anche in questo caso ecco Il tronco rotola Ci cade addosso e ci fa male Ok legna 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 mia Perfetto Serve veramente un botto di legna per fare tutto Da quello che ho potuto capire Ah ci si è rotto Come si chiama? L'accetta? L'ascia Ci si è rotta l'ascia Possiamo farcene un'altra? Sì Al momento non le possiamo riparare Perché per ripararle Mi devo prima costruire un banco da lavoro Che al momento non ho Eh no ho sbagliato pulsante Ah è vero A differenza di Ark Con una cosa molto intelligente questa Possiamo tenere la torcia E anche un'arma contemporaneamente Cioè possiamo usare effettivamente entrambe le mani Che mi sembra una cosa molto intelligente Allora Odino ci ha fatto prelevare da una Valkyria E noi adesso dobbiamo andare Qua dove c'è questo simbolo qui Il mostro La bestia che dobbiamo uccidere Il nemico di Odino Non riesco a pronunciare il nome Come si chiama? Ektira Aspetta che ho visto gente Aspetta che ho visto gente Ciao 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 Vieni qua Vieni qua maledetto Quindi direi di iniziare ad andare per di là E poi ci sono le costruzioni Oh oh ci sono costruzioni che figo Oh oh ci sono costruzioni che figo Ciao Questo è un alveare Lo posso distruggere Ho paura che mi ammazzi No 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 laghi laghi Andiamo via Andiamo via Ah andiamo via Ci facciamo male anche Dando colpi alle pietre con i piedi Aia che male Ha beccato il pollicione Aia che male Qui ci sono un po' di costruzioni Che se non erro Noi ci siamo costruite il martello No questa è la torcia Ma non le posso riparare tipo Perché mi dice che col martello io posso riparare No punto di lavorazione mancante In che senso In che senso punto di lavorazione mancante Vabbè non lo so Comunque no A quanto pare non possiamo riparare queste cose Forse sì E sono io che non sono capace Che è cosa molto probabile Quindi se voi lo sapete Fatemi sapere Come si riparano le costruzioni Qui ci sono altri mostricciattoli schifosi E ci danno tipo delle code Che saranno molto buone Arrosto probabilmente Vieni qua Vieni qua brutto mostro Vieni qua che ti faccio fuori tutto Ah io qui avevo visto questa cosa Ma sono passata dritta Fatemi No aspetta fammi leggere Rendi grazie a Frey Per la pioggia e il sole Ringrazio a Odino Per la carne e le ossa Per il fumo del focolare Eh del fuoco da cucina Per le pelli calde E la forza delle tue braccia Ok Ok praticamente è una specie di Preghiera a Frey Che è un'altra divinità A Norrena e a Odino Bene Molto bene E come vedete il gioco Non è ancora del tutto tradotto in italiano Ci sono alcune parti in italiano Altre sono ancora in inglese Però Niente che complichi Particolarmente l'esistenza Uh uh Qua abbiamo altre costruzioni Gioco non laggare Ti prego gioco non laggare Se è un gioco molto semplice Non dovresti laggare Ma io qua posso salirci Non mi fa salire Maledetto Sì Sì Posso salire Posso salire E poi che faccio da qui Niente Da qui non faccio niente Molto bene Altro cibo Tutto molto bene Molto bene Prima di arrivare Quando saremo addirittura D'arrivo Del nostro primo Obiettivo Io direi che ci possiamo Fermare E ci costruiamo Una Una bella base Anche perché Prevedo di morirci Almeno un paio di volte Almeno un paio di volte La barra della stamina Al momento Non ci dura Una mazza Ma Non appena riusciremo A nutrirci Come si deve A riposarci Costruirci un riparo E tutto In teoria dovrebbe Se non erro Aumentare un pochino Uh Anche i fiori Si possono raccogliere Anche se non ho ancora capito A che cosa servono Saranno tipo Decorativi Non lo so Ok Allora Qui in zona Ci dovrebbe essere Ah vedo là Una pietra rossa Con delle scritte Quindi presumo Che il nostro nemico Sia lì Quindi io direi Che ci costruiamo Prima Una casetta Da qualche parte Qui in zona Possibilmente vicino All'acqua magari Che sarebbe Una cosa Molto carina Ah Dannazione Siamo troppo pesanti Siamo troppo pesanti Però qua c'è Yujin O Yujin Non mi ricordo Come si pronuncia Penso Yujin Che ci deve dire qualcosa Cosa Aspetta Scritta potresti mangiarne ancora Ti sposti Sì ora mangiamo Aspetta Fammi dare da mangiare Alla ciccia Ecco qui Allora Se porti troppa roba Sì diventerai pesante Ti rallenta Ti impedisce di recuperare La stamina Sì grazie Grazie Benvenuto alla fiera dell'ovvio Grazie mille Ora mi libro di un po' di roba L'avevo capito anche da sola Ho un po' di legna E poi tanto la recupero dopo Giusto Non dovrebbe sparire All'improvviso Allora Fammi vedere Io vorrei Costruirmi Una casetta Tipo di qua Da questo lato Che mi piace molto Molto Ah si sta anche facendo Notte Cacchiarola E io presumo Che la signorina Qua debba anche dormire Ah qua ci sono i cinghiali C'è un cinghiale C'è un cinghiale Cinghiale cattivo Cinghiale cattivo Dammi carne Dammi carne Me la dai la carne Non ho capito Se mi ha dato carne Aspetta 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 Ho visto comparire No niente Allora Qua c'è una casetta Ci possiamo riposare Oddio È senza il tetto Praticamente Ci potremmo riparare Qua dentro Possiamo chiudere la porta Vabbè Una volta chiusa la porta Qua hai risolto il problema Però ci dice riparo Ok Quindi in teoria Qua noi ci possiamo riparare Ascolta Così tra sapere e non sapere Se io tiro fuori Il martello Tu mi fai costruire Tipo un letto C'è un letto qua Arredo Letto Però non posso farlo Perché non ho Ah non ho un banco da lavoro Eh Me lo farò qua dentro Il banco da lavoro Posso metterlo qui dentro Il banco da lavoro Forse sì Tipo qua Così Ok E ora col banco da lavoro Me lo fai fare Il letto Sì Ok vabbè Sfrutteremo questa capanna Senza tetto Per il momento Quanto meno per dormire Uh ciao Yogin Dimmi Ah perfetto Quindi se dormiamo Ci risvegliamo Anche un po' Rinvigoriti Ottimo Eh sì Anche delle Tipo dei bauli Dove mettere le cose Non sarebbe male Visto che abbiamo raggiunto Il peso massimo Abbastanza in fretta Ok perfetto Grazie Sei stato molto gentile Grazie Puoi andartene Grazie Puoi andartene Grazie Ok Io la posso riparare Questa casetta Allora fammi vedere No Fammi vedere Se posso riparare Un tetto C'è un tetto Questo è un tetto Sì Uh sì Posso ripararla La casetta E allora aspetta Chi me lo fa fare Di costruirne una nuova Spero che si veda Quello che sto facendo Perché è tutto buio Però Mi sta facendo riparare Una casetta già esistente Ma è ottimo Ma molto bene Ma molto molto bene E poi ci mettiamo Un tettino spiovente Qua così Guarda Guarda Aspetta così Ok C'è c'è Che figata Cioè non mi devo costruire Tutto tutto Alla fine Aspetta che devo Metterlo anche per Di qua Oddio non si vede Una cippa però No forse era meglio Costruire tutto da zero Perché non so Se riesco a Ok Dai fammi mettere Il tettuccio Qui Perfetto Non si vede una cippa Ok Dai che un po' Abbiamo riparato Casetta Senza dover Costruire effettivamente Tutissimo Aspetta 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 C'è un buco C'è un buco In mezzo a tanti altri buchi Però Almeno cerchiamo Di tapparlo un pochino Dai Che scema Anche io Mi dimenticavo Che posso tenere La torcia Mentre abbiamo Mentre utilizziamo Con quegli altri strumenti Ok Allora vediamo intanto Il banco da lavoro Banco da lavoro Cosa ci fa fare Una tunica di cenci Noi cenci ne abbiamo Facciamoci una tunica di cenci Possiamo riparare oggetti Tipo come Ripara martello Sì Me lo ripari Ah riparato Ottimo Avevamo qualcos'altro Di distrutto Sì ma probabilmente L'ho mollato in giro Da qualche parte Non importa La zappa La torcia Randello ascia Ok Queste cose già le sapevamo Uh frecce Ci possiamo fare le frecce Un'ascia di selce L'ascia di pietra L'ascia di selce Sarà più potente Cosa 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 C'è best Ci sono bestie fuori di casa Che fanno casino L'ascia di selce Ci fa taglio 20 Mentre quella di pietra 15 Mi sembra Non ci siano altre differenze Però potrebbe essere buono Facciamoci quella di selce Vai Perfetto E la tunica Me l'ha fatta Non l'ho capito Sì tunica di cenci Ah ma ne avevamo già una E io me la voglio mettere però Ci siamo messi la tunica di cenci Ottimo Signorina mi faccia vedere Lei con la tunica di cenci La gherta Come sta Va Sì è un po' meglio Un po' meglio Magari anche un paio di pantaloni Non ci farebbe schifo Allora Letto Letto la gherta Non reclamato Sì voglio dormire Ha bisogno di un fuoco vicino Perché ha bisogno di un fuoco vicino Cioè non penso sia indispensabile Avere un fuoco vicino Facciamoci sto fuoco Come ce lo facciamo il fuoco Come ce lo facciamo il fuoco Allora il fuoco ce lo facciamo Presumo col martello In Arredo Arredo C'è una torcia di legno Va bene come fuoco Ah no c'è questo il fuoco C'è qua il fuoco Lo posso mettere Dove? Qua 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 che manca il pavimento Possiamo metterlo qui Aspetta Per di qua Perfetto Tutto molto bene Abbiamo anche il fuoco Usa legna Sì Altra legna Poi potrò anche cucinarmi qualcosa Presumo Adesso ci facciamo però Una dormitina È sparita la gherta È sparita la gherta Si è nascosta in mezzo Alla paglia del letto Non la vedo più La gherta Tutto bene Quanto dura la notte Oh riposato Comodità 4 Eh Vabbè Io gli avrei dato un 2 stelle Però vabbè Uhuh Guarda le ombre Che figo Si vedono anche le ombre Ok Allora aspetta Che ora ci costruiamo Un'altra cosa Poi mi voglio costruire Una casa fatta bene Però adesso Sono troppo curiosa Di provare Ok Questo lo metto qua Giusto? Sì E ora voglio cucinare oggetti Cosa mi ha messo? Ah Mi ha messo La carne in automatico E io volevo cucinarmi le code Però volevo vedere come erano Vabbè Un tetto sulla testa Ce l'abbiamo Ah ma c'è fumo qua Ma si riempie di fumo Ah dannazione Dannazione Apri la porta Apri la porta Apri la porta Moriamo affumicati Non è stata una buona idea Accendere il fuoco dentro casa Eh ma cavolo Su Ark non succedeva questa cosa Che succede? Mi sta prendendo fuoco casa Penso Aspetta Aspetta No no Non lanciarmi il cibo così Ok Posso No volevo spegnere Il fuoco Volevo spegnere il fuoco Dannazione Vabbè almeno mi ha messo anche le code A cuocere Non si respira Non si respira dentro casa Mio dio Casa Vabbè chiamala casa Poi mi spiegate perché Io non posso ripararmi Ah sì Posso ripararle Ah aspetta 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 Che riparo tutto Guarda che riparo tutto Uh riparo tutto Perfetto Adesso mi fa riparare tutto Forse dovevamo iniziare a costruire Qualcosa Prima di poter Qualcosa all'interno Prima di poter Effettivamente riparare Riparato Perfetto Qua i tetti li abbiamo messi male noi Però vabbè Dettagli Qua possiamo riparare Guarda che possiamo riparare tutto Che figata Che figata Che figata Fammi riparare anche lì sopra La 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 casetta Come nuova Come nuova C'è qualche buco Quella Però forse questo aiuta Il fumo a uscire Ok dai La casetta è riparata C'è questo tetto Sbilenco Che io posso buttarlo giù Posso distruggermi No 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 Non volevo distruggere la parete Volevo distruggere il tetto Lì là Mi distruggi il tetto No mi sta distruggendo la parete La signorina No niente Ok stavo scherzando Non possiamo distruggere le cose Ok Aspetta dammi la pappa Fammi spegnere il fuoco Fammi spegnere il fuoco Non voglio aggiungere legna al fuoco Voglio spegnerlo Come si spegne il maledetto fuoco C'è troppo fumo in casa Non si respira Posso costruirmi tipo un caminetto C'è un caminetto che possa costruire No Tetto a croce No Aspetta però Tetto a croce com'è? Ah tipo per riparare gli spifferi Posso fare una cosa del genere? No non posso Stavo scherzando Eh ma non mi posso fare un caminetto Non posso farmi il caminetto E quindi come faccio? Ah niente Per ora mi tengo il fumo dentro casa Ma posso almeno spegnerlo questo fuoco io? Ascolta Io lo butto giù Io lo distruggo Eh tanto mi devo ricostruire casa Fammi distruggere questo fuoco Distruggi il fuoco ciccia Distruggi il fuoco Non lo distrugge Vabbè non ne importa Che brutto inizio Mamma mia come abbiamo iniziato male Non siamo per niente preparati Allora fammi mangiare carnina Com'è buona Sì E la coda di lucertola? No immangiabile da crudo Ma noi l'abbiamo anche cotta Giusto? Dov'è quella cotta? Questa? No questo è carbone Che probabilmente ci servirà Ma non avevamo raccolto Non avevamo cotto anche le Le code di ste bestie? Quanto pare no Ok pensavo di sì Va bene va bene Ok basta 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 Mi sono divertita abbastanza A provare a fare cose Adesso direi di uccidere un po' di cinghiali Voglio uccidere un po' di cinghiali Che ci procuriamo altra carne Trofeo di cinghiale Yeah abbiamo un trofeo Fighissimo Abbiamo un trofeo E qua carne Qua carne Dammi carne Dammi carne Dammi pelle Cosa tutto mi hai dato? Tanta carne Perfetto Ah e qua ci aggiunge il simbolino Che cos'è una chiave? Ah no un letto Ci aggiunge il simbolo del letto Dove effettivamente ci siamo Creati il punto di respawn Allora questa casetta Che sta praticamente Prendendo fuoco È stata carina Per testare quantomeno Il banco da lavoro Che alla fine Non serve neanche tanto Per poterlo costruire Quindi direi che ci facciamo Una casetta decente Adesso E non sfruttiamo più Quelle mezze distrutte Vieni qua cinghiale Cinghiale vieni qua Cinghiale Torna qui cinghiale Torna qui cinghiale Oh bravo cinghiale Grazie No ripeto La casetta è stata giusto un test Perché volevo provare a ripararla E volevo far riposare La povera lagherta Uh qua altro cibo Ottimo Però direi che è giunto il momento Di costruirci una base nostra Decente Prima che faccia nuovamente buio Tanto materiali Dovremmo averne Anche qua intorno Qui c'è acqua E la cosa mi piace Non farti male lagherta Grazie Vediamo vediamo Ma questo potrebbe essere Un buon punto Per farsi una base Perché siamo abbastanza Cicliamo praticamente Circondati dall'acqua Abbiamo molte risorse Perché abbiamo pietra Abbiamo un botto di legna Direttamente qui Ok direi che Sì 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 Ci facciamo casa qui Ok fatemi liberare Poco poco La zona Così ci creiamo Lo spazio Per costruire Ah ci sono un po' Di mostricciatoli Ma le facciamo fuori Subito Oh mio dio Oh mio dio C'è un mostro gigantesco Lì che cos'è No no Brutto posto per fare casa Brutto posto per fare casa Fammi raccogliere legno Forse un tempo Aspetta Che cos'è Ma che cos'è Oh mio dio Ma ha un culo gigantesco Qualsiasi cosa sia Io ho paura Ad avvicinarmi Però sono curiosa Voglio sapere Che cos'è Una bestia brutta Aia Aia Cosa Qualcosa mi sta facendo male Aspetta Fammi andare dall'altra parte Del lago Allora Tanto abbiamo Il letto abbastanza vicino Oddio Che cos'è Ma non ce l'abbiamo Un binocolo Non mi dà il nome Siamo troppo lontani Io voglio sapere Che cos'è Fammi raccogliere pietre Uh aspetta Non è che ci stiamo pesantendo Troppo E tra un po' Foresta nera Foresta nera Non niente di buono Niente di buono Foresta nera Non mi piace come nome Ah ah Ci ha visto Ci ha visto Il mostro col culo grosso Ci ha visto Aspetta Aspetta Lagherta corri Lagherta corri Ti prego per l'amor del cielo Ok Non ci segue Yugi Dimmi tutto Dimmi dimmi Sì grazie L'ho visto Che siamo Eravamo nella foresta nera È molto pericoloso Me ne sono accorto Eh sì Ora proverò il mio valore Uccidendo il bestione Ma Ma è quello Il bestione Che devo uccidere Ma non penso Non lo so Ma io non lo uccido Abbi pazienza Non adesso Non siamo abbastanza in forze Per ucciderlo ora No 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 Io lì non me la costruisco Casa Stavo scherzando Peccato mi sembrava Un posto carino Sembrava un posto Tanto carino Però aspetta Forse qui Anche di qua potrebbe essere Un posto carino Aspetta che recuperiamo La stamina Lilla Però papà ne hai Eh la stamina Ti potrebbe durare Anche un po' di più Allora alla fine Un posto che mi piacesse Dove iniziare a costruire Non l'abbiamo trovato E ho pensato Ma chi me lo fa fare Di costruire una roba da zero Ci sono tante casette Già pronte E quindi Ecco qui Ecco qui Noi adesso dobbiamo Solo finire di riparare Questa casa Perché vedo che Ci sono ancora delle pareti Un po' Questa com'è Ma anche questa è un po' rovinata Anche questa Anche questa E è un po' tutto rovinato Però a me Sembrava di aver già riparato tutto Gli abbiamo messo un tetto Perché il tetto non c'era Qui com'è No? Anche qua Anche qua Aspetta Aspetta Fammi riparare due cose Ok Qua il tetto non c'era Noi semplicemente abbiamo messo il tettuccio Ci siamo fatti questa Area di lavoro Dove abbiamo messo il banco da lavoro Perché a quanto pare Il banco da lavoro non funziona Se non c'è un tetto E di nuovo non ha senso questa cosa Ma va bene L'accettiamo così com'è Porticina Pavimento L'avevamo riparato Però vedo che Forse non l'avevamo riparato bene Forse non l'avevamo riparato del tutto Comunque adesso La casetta Guarda che bella Cioè è tutta chiusa È chiusa E non c'è manco uno spiffero Quindi io direi che Forse è meglio non accendere un fuoco qua dentro Per evitare di fare la fine di prima Allora cosa ci manca? Sperando di avere tutto il materiale necessario Allora il letto Perfetto Direi che un lettino Alla nostra lagherta Lo possiamo anche fare Riusciamo a metterlo proprio nell'angolino No 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 Aspetta Aspetta Tipo Così Ok E poi mi ricordo che il tizio voleva che io gli mettersi un fuoco a fianco Fuoco che non posso fare perché mi mancano i materiali Bene Ma per poter dormire a noi serve il fuoco Cosa ci mancherà? Legna? Cosa ci manca? Manca legna Perfetto La legna la recuperiamo in un batter d'occhio Non è assolutissimamente un problema per fortuna Qui non vedo l'ora di poter andare a caccia di cervi appena riusciamo a farci l'arco Se Dio vuole Fuocherello Sperando che sia abbastanza vicino al letto per farci dormire Perché altrimenti lo devo distruggere E dannazione Io lo vorrei fare di qua Però non so se è abbastanza vicino al letto Tipo se io lo metto qua il fuoco Fammi vedere se mi fa dormire Sì Sì possiamo dormire Grande Ok Ok perfetto Sentire di sposato Comodità ancora 4 Vabbè ora Ora provvediamo a rendere il tutto più comodo Allora Vediamo di terminare di arredare questa zona Ok qua ci mettiamo Il coso per cuocere E poi mi volevo fare Un bauletto Che però non posso fare Perché mi manca altra legna Quanta legna che serve a sta signorina Però quanta legna Sì comunque costruire con questo In questo gioco non è facile Cioè nel senso A parte che non ti fa rimuovere gli oggetti che hai posizionato Che ritengo sia una cosa un pochino sciocchina O magari il modo per rimuoverli c'è Sono io che non lo trovo Cosa molto plausibile Uh aspetta che c'è un'altra casetta Ah questa è quella con l'alveare No quindi anche volendo Non avremmo potuto vivere qua dentro Peccato perché è più grande Peccato perché è più grande Se un giorno riesco a capire come distruggere l'alveare Magari ci trasferiamo qua vicino Oh ma guarda che bellina la nostra casetta così Ma è adorabile Ma è carinissima Ma mi piace molto Ora un bauletto me lo fai mettere Tipo qui a fianco al letto Ha un senso Aspetta come lo mettiamo per così No per così Dai sfruttiamo bene gli spazi Così a fianco al letto Il letto peraltro mi sa che l'ho messo al contrario Cioè la testa dovrebbe essere per di là Vabbè non importa Piccoli dettagli Ci possiamo fare il ceppo Eh in che senso? Cioè a che serve il ceppo? Io non lo so che serve il ceppo Tipo lo metto qua a fianco al bancone da lavoro A che serve il ceppo? Eh è un miglioramento del banco di lavoro Quindi mi farà fare altre cose presumo adesso Scusa Scusa banco da lavoro Cosa mi fai fare? Ah possiamo fare anche degli upgrade Al martello All'ascia Ci possiamo riparare cose Posso farmi un arco Cosa mi manca? Legna e ritagli di cuoio Mmm al prima possibile Ci facciamo un arco Va bene mettiamoci due cose A cuocere Che male non ci fa Ah c'è poco cibo da mettere a cuocere Ho solo code di bestie Va bene non importa Ora ci andremo a fare l'arco E poi ci procacceremo altro Ci andremo a caccia di cervi Sì che bello Andiamo a caccia di cervi Che in realtà è una cosa che Non è proprio carina E nel frattempo Abilitiamo Aumentiamo le abilità Miglioriamo le abilità Che peraltro Scusa dove le vedo io le abilità? Non mi sono Effetti attivi Ah vabbè qua ci sono tutti i messaggi Che ci ha dato Eugene O Eugene Non mi ricordo mai dove sta l'accento Ah ecco le abilità Perfetto Qui abbiamo danno da disarrollare Fermato Salto Mazza Parata Ok perfetto Molto molto bene I nostri trofei Abbiamo il trofeo di cinghiale Il trofeo di Nixie Nixie Non lo so I suoi occhi luccicanti E denti affilatissimi Smento la natura apparentemente calma Di questa piccola lucerta Ma non è mai sembrata molto calma Va bene ragazzuoli Allora per questo primo episodio Io direi che possiamo finirla qui Sinceramente sono molto soddisfatta Di come abbiamo riparato questa casetta Ripeto Costruirla Eh Ancora no Però prima o poi ci daremo da fare E costruiremo roba Mi raccomando fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video Mettete un bel like se il video vi è piaciuto Noi ci vediamo al prossimo episodio Baccio e braccio a tutti Ciao ciao Ciao